ed ecco il sequel del video sull'assemblea dei soci della juventus naturalmente farò anche un video sulle parole di sarri molto approfondito direi anche se qualche anticipazione l'ho fatta ieri sera diciamo è arrivata la risposta era veramente faccio fatica a chiamarlo presidente questo qua considerazione soprattutto del fatto di chi ci è stato seduto su quella poltrona se penso che sono cresciuto con buoni perti come presidente ora abbiamo sto qua intanto 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 avvino sempre un attimo eh scusate ma ogni tanto mi chiamo intanto questa pubblicità su internet veramente non la sopporto più non la sopporto più questa pubblicità su internet ma sbrigati intanto non li compro è inutile che li pubblicizzate vabbè dicevamo queste le parole del nostro esimio presidente allora ho calato ferrero due punti ho calato le braghe ho pagato e chiuso la partita questione stipendi forte dell'esperienza del primo giro abbiamo deciso di patteggiare bravo bravissimo giustamente te l'hanno messo in culo te l'hanno messo dice la prossima volta metti il preservativo bravo bellissimo ho calato le braghe ho pagato 700 mila euro e ho chiuso la partita la bocca di ferrero il pensiero di qualcun altro capitolo uefa rischio di stare fuori due o più anni dalle coppe un danno che non potevamo permetterci e io perdo più di 100 milioni per una stagione fuori dalle coppe che cosa significa esserlo per due o tre il milan è stato quanti anni fuori dalle coppe non mi risulta sia fallito stiamo parlando del milan non del sassuolo dell'udinese del crotone o del bologna stiamo parlando del milan vabbè giusto per occorriamo in queste competizioni e non riusciamo a sostenere il bilancio ecco dunque perché ci siamo adeguati rinunciando alla conferenza il risultato è che la squadra c'è gioca seconda e te credo le parolacce se ne prende tutto il mister mica te le prendi tu hai fatto una campagna acquisti praticamente inesistente e tec le parolacce se ne prende tutte l'allegri bello fare i presidenti così bellissimo ma con bolligiglia almeno faceva ridere involontariamente ma faceva ridere mamma mia siamo sicuri che il prossimo anno saremo in coppa se ho sbagliato lo vedremo prima o poi troppo tardi gringo troppo tardi umur tesciuta akis si dice dalle mie parti e poi per oggi intese ho inteso fare insieme con il cda perché ho accettato le sentenze sulla juve con assoluta serenità il presidente gianluca ferrero a risposta agli azionisti che hanno accusato i dirigenti di essere stati troppo arrendevoli nei confronti delle istituzioni giuridico sportive faremo tesoro di critiche suggerimenti non mi pare è giusto avere dialettica replica ferrero all'atto della nostra nomina avevo detto che avevi cercato di difendere la società in tutte le sedi con rigore e pacatezza bisogna dire cosa intenda per questo per difendere la società tuttavia a me è sempre stato insegnato che le sentenze si rispettano allora questa è la classica risposta di chi non sa che cazzo dire questa è la risposta di chi non sa che cazzo dire cosa vuol dire le sentenze si rispettano gli ebrei venivano deportati secondo legge dovevamo rispettare anche quella sentenza gesù cristo è stato messo in croce perché bestemmiatore dobbiamo rispettare quella sentenza giordano bruno è stato arso vivo perché eretico dobbiamo rispettare anche quella sentenza no così per capire no vabbè e poi rispettare sentenza di chi di chi con noi trova il pretesto per fare carne da porco e per gli altri fa finta di non vedere queste sono le tendenze che dobbiamo rispettare presidente oddio se presidente ci si può chiamare la parola la bocca era la tua la parola era di John Elkan le sentenze si rispettano classica risposta di chi non ha un cazzo da dire sono stato nominato a gennaio e qualche giorno dopo c'è stato un processo di giustizia sportiva io partecipo entro pensando di rischiare una nuova ed esco con meno 15 punti che significa fuori dalle coppe quello è un tribunale sportivo nel quale ho accettato le sentenze iscrivendomi al campionato bravo 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 complimenti tanto valeva non ricorrere a nulla e piantarla già lì tanto valeva patteggiare la sita subito e piantarla già lì e programmare il futuro e non che ci avete portato in campana e presi in giro per tutti quei mesi ci difenderemo con rigore in tutte le sedi senza arroganza ma vaffanculo ma va certo che ci difendiamo ma cosa devo fare? mettermi la pelle sulle spalle e attaccare il campidoglio? no magari iniziare a querelare qualche testa di cazzo che ne spara grosse almeno quello gradiremmo almeno quello oppure oppure secondo me manca una domanda da parte degli azionisti che andava a fare lei ritiene giuste queste sentenze a prescindere dal rispetto meno lei ritiene giuste queste sentenze presidente quindi anche Calciopoli è giusta eppure un tribunale della repubblica ha detto che non c'era un cazzo quale delle sentenze rispettiamo presidente? mamma mia veramente credi che faccio una fatica in maio veramente perché io volevo disdire non volevo seguire più la Juventus per questa gente qua per questi mercanti nel tempio non volevo più seguire la Juventus io davvero certo che ci difendiamo guarda e ci sono gli schizzi di sangue per terra tant'è che vi difendete mi difendo nelle sedi competenti non mi pare Ziliani e compagnia cantante continuano a vomitare merda su di noi non mi risultano querele verso questa gente vabbè prendo i migliori avvocati arrivano le assoluzioni di alcuni dirigenti ci ci puliamo il culo ci puliamo il culo noi tifosi con le assoluzioni dei tuoi dirigenti chiaro a noi interessa la maglia il campo interessa a noi non le chiacchiere non è un granché ma vuoi vedere che è anche abbastanza però sono nella rosa UEFA c'è un grado ultimo ma ci siamo fermati oltre non si poteva andare ma se c'è un grado ultimo vuol dire che avanti ci potevi andare o no per so 30 perdiamo 31 e su Calciopoli perché avete ritirato il ricorso? ecco perché questa gente non mi rappresenterà mai non mi rappresenterà mai faccio mie le parole di un consigliere in assemblea che auspica la vendita dalla Juventus speriamo lo spero con tutto il cuore che questa gente non la sopporto più non la sopporto più perché il classico le risposte che ha dato sono le classiche risposte di chi non ha un cazzo da dire le sentenze vanno rispettate oppure rischiavamo questo un po' come a Monti del 2011 rischiavamo il fallimento parlano senza una controprova io voglio fallire voglio stare tre anni fuori dalle coppe ma preservare la dignità ribadisco il Milan c'è stato 4-5 anni fuori dalle coppe non mi risulta sia fallito come non è fallito il Bologna non è fallito il Sassuolo non è fallito il Torino non è fallita l'Udinese non è fallita l'Atalanta non sono fallite tutte queste squadre il Napoli si è fatto la Serie C adesso è campione d'Italia in carica sai cos'è? a me c'è una cosa che dà fastidio è la sì la dignità io sono dalla parte di chi vi è accusato di aver calato le braghe e non solo auspico quanto prima che ve ne andiate che spariate che ve ne andiate dalla società oppure che la vendiate completamente questa società perché non ne posso più di avere una proprietà così una proprietà che potrebbero ammazzarlo per vent'anni il campionato italiano e magari vincere 3-4 coppe dei campioni in una decina d'anni eppure non lo fa eppure non lo fa perché deve preservare i suoi rapporti con le istituzioni anche l'avvocato Agnelli preservava i rapporti con le istituzioni ma c'era un limite oltre il quale interveniva veramente a leggere le parole di questo qua veramente mi passa la voglia anche di vedere la partita domenica sera veramente mi passa la voglia io mi chiedo chi glielo fa fare gli uventili che postano il pezzo del giornale estero Athletic che parla dell'Inter i passaporti questo, questa che cazzo li tirate a fare fuori ste robe che cazzo lottiamo a fare quando i primi che si mettono a 90 sono questi qua chi ce lo fa fare io veramente io questa gente meno la sento meglio sto meno la sento meglio sto veramente se poi qualche bimbo minchia li preferisce ad Andrea Agnelli allora guarda sapete cosa mi arrivo a dire cosa vi arrivo a dire avevi preferito farmi la Serie B con Andrea Agnelli piuttosto che che ritornare in Champions con questi qua tanto con questi qua in Champions vai a fare la comparsa l'abbiamo già visto non è che lo dobbiamo rivedere l'abbiamo già vista sta storia preferivo farmi la Serie B con Andrea Agnelli piuttosto che tornare in Champions con questi qua con questi qua non hai futuro con questi qua devi chiedere il permesso prima di vincere una Coppa Italia devi chiedere il permesso con questi qua sì rivolgo la Juve arrogante ne ho abbastanza di questi qua questi non hanno un cazzo da dire questi non gliene frega un cazzo della Juventus questi pensano solo ai soldi non gliene frega un cazzo della Juventus a questi qua che vergogna non può fare niente lui per esempio puoi negare la nazionale allo stadium puoi negare lo stadium per gli europei oppure che so puoi puoi trasmettere le partite della tua squadra solo sul tuo canale fregandosi in altamente di Dazzone Sky dove sta scritto che io devo per forza vendere i miei diritti a Dazzone Sky dove sta scritto sai che cazzo me ne frega viviamo in un in un regime di libero mercato o no si potrebbero fare tante cose ma con questi qua cosa vuoi fare cosa vuoi fare con questi qua lasciamo perdere che solo avvelenarci la vita cari Juventini eppure ci sono ancora i boccaloni in mano dietro l'Allegri Out questi dovreste contestare imbecilli questi dovreste contestare si prima o poi l'Iranieri sarebbe passata prima o poi ma non per questa gente qua non per questi liquidatori fuori i mercanti dal tempio fuori i mercanti dal tempio Elkan vendi 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 iscrivetevi al canale